Forse questa volta ci siamo, forse dopo anni e anni di tentativi, Timoye Bakayoko riuscirà a tornare davvero al Milan. Tornare. Bakayoko, di fatto, la parola ritorno ce l'ha nel nome. E avete mai fatto caso a quanti film abbiano la parola ritorno nel titolo? Per quanto mi riguarda, i ritorni possono essere di due tipi, banalmente belli o brutti, dei flop. La Disney, per esempio, negli anni 90 iniziò a produrre una serie di sequel dei grandi classici che avevano illuminato la nostra infanzia. Cosa c'entra con ritorno questo? Beh, un sacco di questi sequel avevano la parola ritorno nel titolo. Aladdin, il ritorno di Giafar. La Sirenetta 2, il ritorno negli abissi. Peter Pan, il ritorno all'isola che non c'è. Atlantis, il ritorno di Milo. E cosa avevano in comune queste pellicole oltre a quella parola nel titolo? Facevano tutte schifo. Erano infatti prodotte da uno studio d'animazione diverso da quello che aveva lavorato i titoli originali. E infatti erano destinati direttamente per l'on video, visto che in Disney, per primi, riconoscevano la scarsa qualità del loro prodotto. Le famose minestre riscaldate di cui parliamo quando ci riferiamo al Milan esistono dappertutto. Eppure, non tutti i ritorni vengono per nuocere. Non è che se un film ha la parola ritorno nel titolo, allora automaticamente farà cagare. Così come i ritorni di Ibra e Cacca non sono stati affatto male, molte pellicole di ritorno sono spettacolari. Ritorno al futuro, per restare in tema Bacalico, Back to the Future. Il ritorno dello Jedi, il ritorno del re. E c'è a molti osi, tutta questa gente torna. Se gli eroi tornano. Secondo Joseph Campbell, autore del leggendario ma per me leggermente noioso libro L'eroe dai mille volti, ogni storia mai raccontata segue lo stesso schema. Che si tratti delle tragedie greche o del film dei Simpson, ogni racconto segue uno stesso copione diviso in varie fasi. L'eroe parte, abbandonando il suo mondo originario. Poi, dopo una serie di tappe e ostacoli, arriva il momento di climax. Lì, dopo aver superato la prova finale, fa ritorno al luogo d'origine come una persona nuova, pronta ad aiutare chi lo stava attendendo. Ibra partì. A Manchester sembrò aver terminato la sua carriera in seguito all'infortunio al crociato, ma poi tornato a Milanello è stato fondamentale in questa nostra momentanea risalita. Kakà partì dal Milan da eroe, ma a Madrid fece così male, dovette superare così tanti ostacoli che, alla fine, capì che l'unico luogo dove davvero fosse felice era il Milan. Bacalico ha giocato al Milan soltanto un anno, eppure da quel momento sembra che non se ne sia mai andato. Dopo un inizio difficile in rosso-nero, divenne un punto fisso della squadra allora allenata da Rino Gattuso. Con Gattuso poi ci litigò, ma lo riabbracciò a Napoli. Con Chessy compose una diga in mezzo al campo, ma di questo passo non sappiamo se i due si rincontreranno al Milan o se, come dice qualcuno, Bacalico tornerà proprio per sostituire quel Chessy, che da queste parti doveva diventare un eroe. Ma giorno dopo giorno sta sempre di più facendo sorgere dubbi circa il suo futuro, e di conseguenza sulle sue parole dette qualche settimana fa. Bacalico, da quando lasciò il Milan al termine della stagione 2018-2019, è sempre stato accostato al Milan. È finito prima il Monaco, anche quello ritorno, che però non l'ha riscattato. Dopo essere tornato momentaneamente al Chelsea, è andato al Napoli, che però non l'ha riscattato. Ora, dopo aver passato un'altra estate al Chelsea, e dopo che per circa 80 giorni abbiamo detto, domani firma per il Milan, forse ci siamo davvero. Bacalico tornerà al Milan, da persona nuova, pronto per aiutare la squadra. In realtà, del Milan che aveva salutato due anni fa non c'è più praticamente nulla. Ritornerà a Maldini, teoricamente Romagnoli che sì, Calabria e per qualche altro giorno Castiglio coi conti, ma entrambi dovrebbero poi fare le valigie. I ritorni possono essere di due tipi, banalmente belli o brutti. Vediamo se il ritorno di Bacalico sarà più simile a un sequel Disney fatto a basso costo, o se invece, il giocatore che aveva fatto innamorare i tifosi del Milan, non arriverà più carico, pronto in forma che mai. Dopo aver superato una serie infinita di ostacoli, per riuscire a tornare in quella che, a tutti gli effetti, è ormai casa sua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo giocatore, del video, se vi ha lasciato un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo, ciao.